In via Carmine i cittadini chiedono la rimozione di queste transenne che vediamo proprio qui alle sue spalle. Perché? Che cosa succede? Si può benissimo notare che le transenne sono state qualche giorno addietro, fissate addirittura al suolo, quindi alla strada, in modo da cercare di evitare di creare circolazione su questa strada. Ma cosa si è verificato? Proprio per la superficialità con la quale si affrontano determinate questioni si è verificato un ingorgo e quindi un deposito di autovetture addirittura che crea ingorgo naturalmente al vivere sociale della comunità. Ma al tempo stesso crea anche un pericolo perché molti motocicli sono costretti ad andare sul marciapiede, quindi circolare sul marciapiede ad altissima velocità mettendo a rischio l'incolumità pubblica ma soprattutto mettendo a rischio anche alcune attività presenti e quindi coloro che escono ed entrano all'interno dell'attività. Per cui i cittadini chiedono una rimozione immediata perché illegittima nei confronti della comunità un fissare sul suolo determinate transenne, quindi rappresentano un pericolo pubblico e chiediamo all'amministrazione di eliminarle prima possibile. Ma perché sono state fissate? Ma sono state fissate evidentemente, non so da quale organo, da quale persona, siano state impartite questi compiti di fissare sul territorio. Una cosa è certa, che chiunque ha preso questa responsabilità deve assumersela fino in fondo perché rischia di mettere a repentaglio la vita dei cittadini ma soprattutto di coloro che circolano su questa strada.